La contrada di Margherita e di quella zona si uniscono con i residenti per dire no all'antenna 5G che non solo deturpa il paesaggio ma anche un problema di radiazione. Sì, ce ne parla meglio adesso Antonio che è uno dei residenti che abita a ridosso dell'antenna ma quello che ci preme dire è che qui non è una battaglia soltanto di Margherita perché se è una visione questa qua, politica amministrativa di questa città allora io dico che è un problema di tutta la città perché oggi nasce lì, domani nasce qui sul comune perché se a prevalere sono queste grandi finanze, questi colossi e decidono dove, come e quando e nascondiamo i criteri di questa città, la visione di questa città allora il problema inizia a diventare grave. Buongiorno, in pratica dall'oggi a domani io sono residente a Via dei Fiordalisi nella zona proprio vicino dove è stata costruita questa antenna che purtroppo mi hanno detto gli operai a cui stanno lavorando stanno terminando i lavori e sarà attiva già da lunedì è stata tutta una cosa immediata, dall'oggi a domani hanno iniziato subito i lavori senza nessuna indicazione in merito senza una cartellinistica di cantiere idonea ma diciamo nascondendosi dal fatto di questa costruzione dell'antenna sono stato io purtroppo a dover andare a trovare sull'albo prittorio del comune di Crotone e ci ho messo anche parecchio tempo che cosa stessero facendo e ho trovato ahimè questa brutta sorpresa io chiedo con questa riunione con cui avremo il sindaco di darci una mano, di venirci incontro soprattutto a seguito di una delibera firmata da lui approvata da tutti i consiglieri nel 2021 dove in premesse mettono evidenze scientifiche non mie, non pareri così tra cittadini che magari noi non ne capiamo molto ma di studi scientifici presi nei vari anni in cui viene confermato del potenziale rischio di questo elettrosmog e quali anche il comune si impegnava a regolamentare il tutto con un piano di antenne, un regolamento edilizio che doveva essere approvato il prima possibile ma così purtroppo non è stato fatto io inoltre ho fatto una ricerca nei vari comuni nelle varie città italiane e questo piano di antenne è stato idoneamente fatto anche mettendo a coscienza e ad osservare, pure far osservare anche ai vari cittadini di prendere atto di questo piano di antenne in via facendo Cosa vi aspettate da questo incontro con il primo cittadino? Spero che ci capisca lui ha detto all'intervista che sotto casa sua non avrebbe mai messo un'antenna di questo tipo E perché metterla sotto casa degli anni? Io dico perché metterla a casa mia? Perché i miei figli, i miei nipoti devono essere così, ai vicini di casa devono prendersi questa colpa questa sfortuna diciamo e mettersi questa antenna non si può fare prima una regolamentazione delle antenne e trovare i siti idonei con accordo anche delle grandi società di telecomunicazioni lontani dai fabbricati, lontani dalle residenze soprattutto lontani da una scuola ricordo che là, 400 metri dall'antenna c'è la scuola di via del Gelsomine, l'asilo quindi non è da poco e gli studi scientifici fanno riferimento soprattutto a malattie probabili per i bambini Grazie